Sono più familiari con due proprietari, marito e moglie, con divisione dei beni. Si può soffrire del super bonus? Direi assolutamente di sì. Di familiare con due proprietari, a tutti gli effetti è un condominio minimo o mini condominio. Poi si può valutare se hanno accesso autonomo dall'esterno e sono funzionalmente dipendenti, allora si può intervenire anche sulla singola unità immobiliare, però direi che non ci sono copieni.